Io non ho capito qual è la strategia europea in tutto questo. Se c'è una strategia, io non l'ho proprio capito. Insieme a me molte altre persone... Mi chiedo scusa perché... Coincide con quella dell'Italia in questo momento. Siamo in sintonia con l'Europa. Significa anche stare sui tavoli internazionali e dialogare con gli Stati Uniti d'America al tempo debito, non oggi a Bruxelles. Bruxelles ci doveva stare prima che succedesse l'irreparabile per difendere gli interessi italiani anche nei confronti della Francia. Anche nei confronti della Francia. Quindi i giochi andavano fatti prima. Il protagonismo non significa stare esattamente e soltanto a Tripoli con la nostra diplomazione. Quando Salvini andava in Libia non sa posso. Salvini si è occupato di immigrazione. Cerchiamo di non buttarla in cacciata. Io sto dicendo che c'è un deficit di geopolitica. È mancata la visione in maniera totale. E quando abbiamo potuto far pesare con il protagonismo il nostro punto di vista e la difesa dei nostri interessi. Quando Berlusconi faceva bombardare la comunità internazionale. Quando? Quando è successo questo? Dovrei capire quando. L'ultimo momento, piaccia o meno, in cui c'è stata una politica essa da parte d'Italia è stato con l'ultimo governo Berlusconi. Ti piaccia o meno, tant'è che Berlusconi ha pagato pesantemente da questo punto di vista. Le repliche vi prego dopo.